Ciao bentornati, allora questo dovrebbe essere l'ultimo episodio prima della pausa estiva e vediamo se riesco durante questo mese a mettere qualche vecchio episodio ripreso e ricostruito un pochettino per bene dei primi che ho fatto. Ci vedremo poi alla fine del mese o i primi di settembre direttamente con nuovi episodi. Ci saranno altre interviste, si parlerà sempre di vino, di tecnologia, di notizie del mondo del vino. Quella è una rubrica che ho intenzione di organizzare un pochettino meglio, anzi di organizzarla proprio perché fino adesso insomma sono stati soltanto dei piccoli esperimenti. Invece oggi voglio parlarvi un pochettino più espressamente di trasformazione digitale. Anche il vino chiaramente si deve imparare o meglio ha imparato ad usare alcuni strumenti che prima probabilmente non utilizzava in modo molto molto efficace o comunque in modo molto assiduo. Invece in questo periodo più o meno tutte quante le cantine si sono adattate per poter vendere il proprio vino online, per poterlo soprattutto presentare quindi degustazioni online. Ci sono state piattaforme come Zoom che hanno fatto un botto pauroso verso l'alto perché sono state quelle più utilizzate, era la cosa più semplice, non c'erano molti settaggi e molte cose da fare insomma. I vignaioli pure si sono adattati molto bene a stare da questa parte dello schermo e non è per niente semplice per chi non è non è abituato. Vedete me in questo video insomma non è che sono proprio uno spettacolo insomma per fare video di questo genere. Però ci si sono adattati perché è la loro cantina, perché è il loro business, perché è quello che è la loro attività. Adesso però è il momento di imparare a capire, o meglio è il momento di capire come utilizzare questi strumenti anche dopo. Non vanno usati soltanto adesso perché c'è stata l'emergenza e poi vanno dimenticati. La trasformazione digitale soprattutto nel vino non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. Il vino non è mai stato un innovatore da questo punto di vista, il settore del vino almeno. Poi è chiaro che aziende più grandi, quelle proprio di tipo industriale, sto parlando degli australiani, dei californiani in particolare, hanno innovato molto in tante tecnologie soprattutto all'interno della della cantina. Ma il modo di vendere il vino alla fine è sempre stato più o meno lo stesso. Soprattutto in Italia la filiera non è cambiata molto. Non cambierà neanche dopo, per carità. È chiaro che però internet, i sistemi digitali, hanno, come dire, dato un po' una botta a tutta quanta quella rete di intermediari che prima servivano per far arrivare il vino dalla cantina fino al ristorante, al wine bar o addirittura negli aerei, nelle navi. Tutti quanti i settori e canali che oggi purtroppo sono stati fermati e hanno anche parecchia difficoltà a ripartire. Qualche giorno fa leggevo un articolo di Susan De Mattei che l'ho intervistata un paio di anni fa per il blog, per Web in Vigna. Lei è un'imprenditrice esperta di marketing, ha lavorato con grandi aziende tecnologiche soprattutto e ha messo in piedi qualche anno fa una sua società di marketing del vino che si chiama Wine Glass Marketing. Poi trovate anche tutte quante le note nel blog, basta che ve lo andate a cercare su Web in Vigna. Lei racconta un po' un aneddoto di un'azienda, Tuco si chiama, che negli anni venti del secolo scorso era un fornitore di attrezzature edili per le aziende, per le società che costruivano case a New York soprattutto. Era un periodo del boom, quindi c'erano molte molte attività, molte case che venivano costruite. Purtroppo nel 29 la grande depressione blocca tutto quanto. Per parecchi anni ci sono stati licenziamenti, i lavori erano completamente fermi, non ci sono stati ovviamente neanche investimenti in nuove tecnologie. Tuco si è trovata con i magazzini pieni di attrezzature, di materiali che dovevano essere consegnate poi alle compagnie edili per la costruzione appunto, ma non sapevano più cosa farci perché le compagnie edili avevano chiuso quasi tutte quante, erano fallite. Quindi che cosa facciamo? E si sono resi conto che avevano in magazzino queste lastre di cartongesso fino che loro avevano progettato per rendere più veloce la costruzione dei tramezzi e avevano queste lastre di cartongesso e avevano delle macchine per la stampa perché questi cartoni, questi pannelli di cartongesso venivano messi direttamente dentro le case con la stampa come se fossero già con la carta da parati in pratica. E quindi si sono detti, cioè cosa facciamo con tutta quanta questa roba? E qualcuno gli è venuta l'idea di usare delle immagini prese dai rotocalchi o disegnate da loro e stamparle direttamente su questi pannelli e poi ritagliarli per fare dei puzzle. Quindi hanno cominciato a vendere i puzzle. Pochi soldi costavano, erano un divertimento simpatico per i ragazzini ma anche per gli adulti che purtroppo in quel momento avevano dei grossi problemi perché non stavano lavorando, si devono andare in giro a cercare il lavoro. Era un modo come un altro per... e quindi che cosa avevano? Avevano la necessità di ritrovarsi e di riunirsi in qualche posto e in questi posti venivano poi venduti questi puzzles appunto che servivano come giochi di società per far passare un po' il tempo alle persone che stavano lì in attesa di cercare lavoro. E così hanno cominciato a produrre questi puzzle. Non pensate a quelli di oggi con gli incastri fatti bene in un certo modo. Erano fondamentalmente questi pannelli con le immagini stampate sopra e poi ritagliate e sagomate in modo più o meno poco lineare però insomma non è che avevano degli incastri. Poi piano piano tutta quanta questa tecnica è stata sviluppata negli anni cinquanta ma questa è un'altra storia. Quindi loro sono andati avanti fino a... mi sembra fino alla fine degli anni ottanta, novanta questa azienda. Poi hanno chiuso. E' chiaro che un'azienda vinicola non si può trasformare e diventare che so un'azienda che produce profumi al gusto di uva o gel sanificanti al gusto di uva. Non è la stessa cosa. Però dà l'idea di una parola che, dice Susan De Matei, oggi ci deve un po' tutti quanti far pensare al futuro. Questa parola è pivò. Il pivò nel campo del basket è quello che sta al centro, è il perno attorno a cui ruota tutta quanta la squadra e è la persona, il giocatore, che è capace di fare quasi, cioè di giocare in quasi ogni ruolo in pratica. Quindi sa difendere, sa attaccare, sa andare al canestro. Pivò però, nel gergo delle start up californiane, significa cambiare strategia. Tutto quanto questo utilizzo della tecnologia digitale ci deve quindi far capire che dobbiamo cambiare qualche cosa nella strategia. Questo qui vale poi per qualunque per qualunque altra azienda. Può vendere vino, possono vendere pantofole, possono vendere viaggi. È il modo diverso di fare magari le stesse cose, ad esempio un modo diverso di venderlo, un modo diverso di presentarlo. Non vi basate, un altro consiglio che dà soltanto sui social o su certe piattaforme. I social e le piattaforme in genere, come può essere Google, YouTube, Facebook, Instagram, hanno sotto degli algoritmi che dall'oggi al domani possono cambiare. Guardate quello che sta succedendo con TikTok. TikTok ha un miliardo di abbonati, un sacco di gente si mette lì, fa i propri video, le proprie gag veloci per presentarsi, per farsi vedere. Molte aziende ci si sono basate per una propria strategia di marketing. Poi arriva Trump e dice niente, da oggi banniamo TikTok. E tutti quanti quelli che si erano basati su quella piattaforma lì, adesso cosa fanno se non hanno un'alternativa? Questi sono però soltanto degli strumenti. Non bisogna basare una strategia su uno strumento, bisogna basare una strategia sul proprio obiettivo. Se l'obiettivo è, nel caso di una cantina, vendere il proprio vino, oltre che produrlo, ovviamente, ma venderlo, proporlo in maniera più incisiva, allargare il numero di persone che poi vengono alle nostre degustazioni, che ci vengono a trovare in cantina, che chiedono questo vino nei negozi o anche online, quella è la strategia. Poi i vari social sono soltanto strumenti che vengono utilizzati. Probabilmente bisognerà cambiare alcune cose. Ad esempio, banalmente, stare su una piattaforma di e-commerce non significa soltanto vendere qualche bottiglia in più. Chiaramente, insomma, l'e-commerce ha avuto un balzo, uno studio nomisma di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, diceva proprio questo, è stato un balzo di circa il 120%, anche la GDO, quindi la grande distribuzione organizzata, cioè quelli che sono rimasti aperti senza grossi problemi, anche le enoteche sono rimaste aperte, la maggior parte, però chiaramente le persone, soprattutto nel periodo del lockdown, se dovevano uscire, uscivano per andare a fare la spesa al supermercato, nella grande distribuzione organizzata, e lì compravano il vino, dove appunto c'è stato questo aumento di vendite. Però stare all'interno di un e-commerce non vuol dire soltanto vendere una o due bottiglie di vino in più, ma significa soprattutto stare all'interno di piattaforme dove il proprio nome circola, gira, è presente. Fate conto, prendete quella più famosa, Vivino, oppure in Italia Tannico, stare all'interno di quel portfolio, di quel magazzino, di quel catalogo, significa che comunque si ha la possibilità di essere trovati, ci sono chiaramente delle tecniche anche per cercare di farsi trovare, significa soprattutto per una cantina avere la possibilità di farsi vedere all'interno di uno scaffale, è come appunto nello scaffale della GDO, se non ci sei all'interno di quello scaffale nessuno ti può comprare. Poi magari se invece ci sei, anche se sei un po' nascosto, però qualcuno ti va a trovare, qualcuno ti trova, qualcuno ti assaggia, ti compra, quindi poi magari se viene visto che quel vino viene comprato volentieri dall'ultimo scaffale vieni passato allo scaffale centrale, al ripiano centrale, quindi anche lì per gli e-commerce è più o meno la stessa cosa. Sto dicendo questo esempio ma possono essere tanti altri, può essere una strategia basata sul raccontare delle storie del vigneto, degli aneddoti. Le strategie oggi devono cambiare non soltanto in funzione degli strumenti che possono cambiare, ma ci devono far pensare che è cambiato un po' tutto quanto il sistema, non soltanto nel vino, è cambiato un po' e cambierà ancora il sistema di lavoro, il sistema, ad esempio gli orari in cui si vanno a prendere, si va a fare la spesa, gli orari in cui si esce per andarsi a bere un bicchiere. Io precedentemente andavo in enoteca il sabato mattina in un wine bar, con quei due o tre che frequento normalmente con gli amici, perché il sabato mattina era l'unico momento in cui che avevo libero dal lavoro. Situazioni sono cambiate, anche il mondo del vino se ne deve rendere conto che non è tutto, non è rimasto tutto quanto come prima. Sono cambiate delle abitudini, sono cambiati i modi di acquistare, quindi ad esempio basarsi molto sulle nuove piattaforme di pagamento. Quando si va ad una fiera è sempre bene avere a disposizione un post. Oggi ce ne esistono di vari tipi per poter far pagare con la carta di credito chi viene alle fiere e si compra due, tre, quattro bottiglie di vino. Quindi sono tutte quante cose che per quello che riguarda la trasformazione digitale bisogna pensarci un pochettino, bisogna cominciare a dare un'occhiata, a capire che cosa sta succedendo, analizzarlo bene, vedere dove si vuole arrivare e vedere come si può fare per cambiare un pochettino il nostro modo di fare. Bene, come vi dicevo questo qui è l'ultimo episodio prima della mia pausa estiva che comunque durerà un paio di settimane e ci risentiremo e ci rivedremo ai primi di settembre. Io vi ringrazio per avermi seguito. Prima che andiate via però volevo ricordarvi che potete chiaramente seguire il podcast oltre che su Spotify, su Spreaker, su iTunes, anche direttamente sul sito del podcast stesso. Basta andare su thedigitalwine.com slash podcast e lì vi si apre direttamente la pagina con tutti quanti gli episodi. Per guardare, per leggere qualche cosa di che cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia digitale per l'industria del vino, chiaramente c'è Webinvigna. Ringrazio ancora tanto Winearound e il mio amico Francesco Cortese per la sponsorizzazione del podcast che mi ha aiutato non soltanto a livello finanziario per poter acquistare attrezzature migliori, per poter partecipare a fiere, per poter avere delle notizie migliori, ma soprattutto anche per la fiducia che mi ha dato nello spronarmi a cercare sempre cose nuove da dire per quello che riguarda il mondo della tecnologia e soprattutto quello del vino. Per adesso è veramente tutto, mi raccomando, bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci vediamo a settembre, al prossimo bicchiere.